Dallo scorso 6 giugno è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti dei ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Un nuovo adempimento che rivoluzionerà l'organizzazione e il modo di lavorare delle pubbliche amministrazioni. Un tema che Confindustria Centro Sicilia ha voluto approfondire nell'ambito delle iniziative del progetto PON, Caltanissette e Caserte Sicure e Moderne, con un seminario intitolato Fatturazione elettronica, opportunità e tutela per le imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nasce nell'ambito di un progetto di Confindustria Centro Sicilia, un progetto PON dal titolo Caltanissette e Caserte Sicure e Moderne, che ha l'obiettivo di garantire agli imprenditori e alle imprese un contesto favorevole per il svolgimento dell'attività economica e soprattutto un contesto libero da qualsiasi tipo di condizionamento criminale, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni dell'estorsione e dell'usura. Nell'ambito di questo progetto sono state programmate una serie di attività, volte a migliorare il rapporto tra gli imprenditori e i principali interlocutori pubblici e privati in tema di sostegno finanziario e di accesso al credito. Un'occasione grazie all'intervento di numerosi relatori intervenuti per approfondire gli aspetti normativi e fiscali della fatturazione elettronica, illustrare i vantaggi derivanti dall'utilizzo del nuovo sistema digitale, analizzare le problematiche e le opportunità connesse all'adozione e all'implementazione dei nuovi processi. La fatturazione elettronica è uno dei progetti strategici del governo e è il progetto su cui si punta per l'automatizzazione e il miglioramento dell'interazione tra la pubblica amministrazione e le imprese. Il vantaggio è quello di avere un rapporto più snello, che sia automatico, per velocizzare poi tutto quello che riguarda sia dall'emissione della fattura fino al pagamento e quindi tutto il rapporto di ciclo passivo verso la pubblica amministrazione. Dunque rientra nelle pratiche della digitalizzazione per snellire tutte le procedure burocratiche? Sì, diciamo che è il primo passo. La fattura naturalmente ha una funzione molto importante, per cui si punta proprio a digitalizzare la fattura per poi digitalizzare tutto il ciclo amministrativo dell'impresa e della pubblica amministrazione.